Alla presenza delle massime autorità cittadine e dei rappresentanti delle realtà economiche è stato presentato questo pomeriggio nella sala Nullo Baldini della provincia di Ravenna il progetto definitivo della portuale Ravenna 2017. Alla presentazione sono intervenuti il presidente dell'autorità di sistema portuale Daniele Rossi, il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, l'assessore regionale Raffaele Donini e il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Presidente Rossi è sicuramente un giorno storico per l'autorità portuale in particolare per il porto di Ravenna, viene presentato il progetto del Lab Portuale. Un giorno storico che segna una partenza, una grande partenza, oggi non è un giorno di arrivo, oggi comincia tutto ma fin qui bisognava arrivare quindi credo che siamo tutti molto contenti e molto soddisfatti perché le condizioni per arrivarci non erano facilissime ma con un grande sforzo, con un grande impegno di tante persone ce l'abbiamo fatta e quindi il progetto lo depositiamo e da lì si parte, non siamo arrivati. Che caratteristiche avrà appunto il progetto? Il progetto sostanzialmente si inserisce in quello che era il progetto precedente nella sua conformazione strutturale, certamente ci sono delle modifiche importanti. In una prima fase, quella più significativa, credo che la divisione in due fasi, nella prima fase l'escavo dei fondali sarà fino a 12,50 metri per poi arrivare nella seconda fase quindi fra diversi anni quando avremo a disposizione l'impianto di trattamento dei sedimenti che dobbiamo in questo periodo realizzare e arrivare ai 14,50 metri che è la profondità ultima prevista ma per questo ci vorrà un po' di tempo in più. Per ora l'obiettivo è raggiungere i 12,50 metri che è una quota che garantisce sicuramente un'operatività soddisfacente per il porto per un numero significativo di anni ancora, dopo bisognerà andare oltre. Il progetto ha un costo significativo, un costo di 235 milioni di euro che derivano soprattutto da soluzioni tecniche che sono state adottate, che sono estremamente impattanti non solo sotto l'aspetto realizzativo ma anche sotto quello economico perché la grande attività tellurica che ha coinvolto l'Italia e anche la nostra zona negli ultimi anni ha reso molto più sensibili gli organi di autorizzazione di controllo, soprattutto il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che oggi richiedono che queste opere, che sono opere strategiche, siano realizzate in una categoria superiore rispetto a quella precedente e questo ha cambiato strutturalmente in modo importante le opere e le soluzioni tecniche da adottare con un impatto significativo sui costi, però per una volta nella storia delle opere pubbliche italiane non c'è un problema di soldi. Quando si parte con dei progetti è sempre difficile fare una tempistica a grandi linee, che cosa dobbiamo aspettarci e quando inizieranno realmente i lavori per l'escavo? C'è una data certa, che è l'unica che garantisco, che è quella di lunedì mattina, 18 settembre, il progetto sarà depositato alla struttura tecnica di missione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questa è l'unica certezza che ho. Dopodiché entriamo nella logica dei grandi progetti infrastrutturali e quindi di tutte le autorizzazioni che enti diversi, numerosi, devono rilasciare. La più importante sicuramente è quella del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che deve approvare le soluzioni tecniche adottate. Dopodiché deve andare al Cipe, al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, per le valutazioni di carattere economico-finanziario, la sostenibilità dell'opera. Insomma, se tutto va bene, crediamo che i lavori di escavo possano cominciare all'inizio del 2019. L'inizio, datemi un po' di margine su questo inizio. Comunque, insomma, 2019 è l'anno dei lavori. Il Presidente Rossi, con l'aiuto che tutta la città ha saputo dargli, in questo caso io mi sento di ringraziare in particolare tutte le associazioni economiche e tutte anche le forze politiche della città, quelle di maggioranza e quelle di minoranza, di opposizione per aver tolto questo progetto dal campo delle polemiche, degli scontri e anche delle legittime opinioni, per aver dato una grande prova di coesione della città di Ravenna. Con questo progetto che ci auguriamo in tempi bevi possa venire approvato, si arriverà a una prima fase di escavo certa, quindi le imprese Ravennati, le imprese di tutto il mondo che guardano a Ravenna con interesse, sapranno che in pochi anni i fondali verranno approfonditi e allo stesso tempo si creano le basi per poter arrivare a un approfondimento ulteriore in una seconda fase, perché nulla si fa che venga poi sprecato nella seconda fase, per alcuni investimenti veramente importantissimi, come quello del terminal container in Trattaroli. Assessore Donini, come si inserisce il progetto del Lab Portuale nella rete delle infrastrutture della Regione? Beh, noi ripetiamo sempre che il porto di Ravenna in realtà è a Ravenna, ma non è di Ravenna, è il porto della Regione Emilia-Romagna, il primo porto in Italia per importazione di merci, ha tuttora un deficit di competitività a livello di prospettiva, cioè quello della profondità dei canali, con questo progetto che oggi noi rendiamo definitivo e quindi ci aspettiamo che nei prossimi tre mesi si esprima anche positivamente il Consiglio Nazionale per i Lavori Pubblici e poi l'opera sia pronta per essere finanziata dal Cipe o comunque approvata dal Cipe. Con questo progetto che si realizzerà entro questo mandato amministrativo, il porto di Ravenna avrà davvero grandi opportunità ulteriori per il futuro, per l'importazione delle merci, per contenere navi più grandi, per realizzare il terminal container, per riqualificare tutte le banchine e per dare agli operatori pubblici e privati una grande prospettiva di futuro. Si parla del porto è vero, però il porto è legato anche per le infrastrutture a terra, appunto al resto della regione, al resto della nazione e all'Europa. Su questo aspetto ci sono delle novità future? Siamo molto ottimisti, stiamo costruendo percorsi importanti sul trasporto merci su ferro, sui legami tra il porto di Ravenna e i principali interporti, penso per esempio Bologna e Parma, abbiamo stanziato 21 milioni di euro per interventi cosiddetti della retroportualità che portano i binari fino alla banchina per eliminare alcuni passaggi a livello in città, per migliorare l'accessibilità al porto. Non ci fermeremo qui perché su Ravenna intendiamo ovviamente continuare ad investire in una rete infrastrutturale che possa collegare il porto ai principali assi di logistica e di trasporto merci. Intanto portiamolo a termine, nel senso che credo sia un po' di anni che si attende che il progetto di escapo dei fondali del porto di Ravenna diventi realtà perché quella opportunità, questa opportunità darebbe modo di avere l'ingresso in porto di navi più grandi, quindi stoccaggio di maggiori quantità di container e di merci e noi sappiamo che per un porto come questo, per un territorio che dà da lavorare a migliaia e migliaia di persone, vi sarebbe indubbiamente non solo una crescita dell'indotto o del diretto dal punto di vista economico, ma anche proprio di davvero tanti nuovi posti di lavoro. E in un momento così favorevole per l'Emilia Romagna, la regione che cresce di più in Italia da ormai tre anni, con un export che sta volando e un tasso di occupazione che è arrivato al primo posto insieme al Trentino, sarebbe un ulteriore valore aggiunto perché sapete qual è la nostra scommessa e quella entro il 2020, lo dicemmo chiaramente all'inizio della legislatura due anni e mezzo fa, di dimezzare la disoccupazione che allora era al 9% e quindi se fosse così come dovrà essere, tornare alla piena occupazione e quindi questo è un fatto molto importante, avevamo detto che avremmo sbloccato una ad una le opere che da troppo tempo erano bloccate e tra queste c'era anche il porto di Ravenna con questo progetto.